Come cavolo si può essere cacciato? Forse si è infilato in quella specie di ananas Coraggio, entriamo Scordacelo, non ci penso nemmeno Dai Patrick, ti seguo a ruota Avviciniamoci Ci siamo quasi Che cosa è successo? Patrick, dammi una bella spinta Non potremmo restarcene qui tranquilli invece? No caro, ho creato io quel mostro E tocca a me fermarti Che ti dicevo, è pericoloso E dove è il tubo che perde, signora? Tutto bene Patrick? Ha fatto strike Вторarko Provempi notifications Allora Questa 6 Ta 7 Hanno Questa 8 Visit Questa 10 Questa 6 Questa 11 Questa 6 Questa 8